Una misura concreta che ha avuto un ottimo risultato, così come ci aspettavamo, ci attendavamo e così come eravamo certi che sarebbe accaduto. In questo momento così complesso abbiamo dato il segno plastico di una misura in grado di agevolare concretamente nei fatti l'accesso al credito di tutte quelle micro imprese, oltre che di professionisti, giovani, neocostituiti o comunque costituiti da meno di 48 mesi che non avrebbero avuto dalle banche orecchie adatte per ascoltare le proprie esigenze. Lo abbiamo fatto con soldi pubblici, abbiamo concesso credito e lo concederemo nei prossimi giorni evidentemente in modo diretto quindi valutando questi oltre 100 progetti che sono arrivati, quindi un ottimo successo della misura e valutandola nel merito e quindi nella capacità di produrre poi reddito e non invece solamente nella capacità di essere etichettati come soggetti bancabili. Il successo di questo bando significa anche che c'è vitalità nelle imprese? Questo è un elemento fondamentale a cui io personalmente, Fira, ma anche la Regione, nella persona dell'assessore allo sviluppo economico hanno sempre creduto. È un momento molto particolare, molto difficile, che si aggancia ad un momento comunque di crisi economica che diciamo così perdura da diverso tempo, comunque di una crescita piuttosto blanda dell'economia della nostra Regione. Un momento complesso che sicuramente da un lato deve vedere l'erogazione di fondi perduti, cioè vale a dire di sostegno, di assistenza a chi ha dovuto purtroppo patire la perdita di reddito, ma non può che passare attraverso l'investimento, cioè la capacità da parte del pubblico di favorire i processi di investimento. Solo con l'investimento, e questo ci tengo a dirlo, è possibile cercare di riattivare quel processo virtuoso che produce poi consumo e che produce poi occupazione nel medio-lungo periodo. Fira, da questo punto di vista, continuerà su questa strada? Ma questa misura è stata l'esempio assolutamente tangibile di come una società in house possa essere di supporto alla Regione Abruzzo. Una misura che noi abbiamo voluto, perché ci abbiamo davvero creduto, e abbiamo convinto la Regione Abruzzo a darne attuazione anche in un momento in cui si potevano avere dubbi sulla sua riuscita. La riuscita è stata ottima. Questa deve essere, diciamo così, la pelle che deve avere una società in house, questa deve essere il DNA scolpito all'interno di una società in house, questo deve essere il ruolo proattivo, fattivo, costruttivo, che tende a dare quindi un contributo in termini di valore aggiunto all'ente pubblico.